Siamo al penultimo giro del campionato italiano donne e elite. Siamo al penultimo giro del campo. Siamo solo ritornati della salita. Questo è l'ultimo passaggio che faranno. La prima Elisa Locoborghini. Sta andando verso la montagna dell'ultimo giro. Ecco le prime inseguitrici. Il compagno di squadra. E l'Astana. Piamme Auro e Astana. Prima Piamme Auro. Seconda Astana e Piamme Auro. Rai, Rai, bravi. Dai, dai. Dai, dai. Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. 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 Noi, noi.